150 destra 3 chiude dopo 80 sinistra destra 3 più in sinistra 5 subito sinistra tornante sinistra tornante accenno destro in destra sinistra destra 5 subito destra tornante stretto destra tornante stretto sinistra 5 200 attenzione accenno sinistro in sinistra tornante sinistra tornante destra 5 80 90 attenzione destra 3 meno meno tonda 30 accenno sinistro in sinistra tornante destra 5 e subito destra tornante sinistra 5 doppia lunga 200 doppia lunga dopo il cartello alla casa sinistra 4 in destra 5 subito destra sinistra 4 in destra 5 80 80 destra 5 80 attenzione al parcheggio destra 5 piano subito rosso in sinistra 3 meno meno 30 destra 5 50 sinistra destra 4 meno subito attenzione sinistra 2 stretta doppia sul ponte 2 sinistra 2 stretta doppia sul ponte 150 a pista attenzione al cartello sinistra destra 3 veloci sporche in destra sinistra 5 80 attenzione destra 3 ritarda e subito destra 1 stretta destra 1 stretta 1 1 sinistra 3 in destra 5 50 sinistra 4 corta attenzione subito destra sinistra 3 in destra 5 150 vai sinistra 4 30 destra 3 stai largo buca in sinistra 3 ritarda in destra 5 subito accendo destro in sinistra 3 più lunga sinistra 3 più lunga 50 non vede in destra 4 meno non tagliare subito destra 4 meno meno sinistra 4 meno meno in accendo sinistro in destra tornante sinistra 3 meno ritarda subito sinistra tornante in destra tornante sinistra 4 lunga 100 molta molta attenzione accendo destro subito subito destra tornante accendo destro subito destra tornante sinistra 5 50 destra sinistra 5 doppia in destra 5 80 sinistra 5 vai attenzione subito accendo destro in sinistra tornante 80 80 destra 5 80 attenzione destra 4 meno meno subito destra tornante 30 destra tornante sinistra tornante tondo 30 destra tornante chiude dopo sinistra sinistra in sinistra 4 meno 100 dopo il cartello destra 4 doppia in sinistra 5 al cartello sinistra 4 in destra 5 100 a vista a vista dopo il cartellino sinistra 5 doppia attenzione accendo destro in sinistra 4 subito accendo destro in sinistra destra 3 sinistra 5 in destra 5 lunga a rail destra 4 meno sfiora subito sinistra destra 3 attenzione chiude 50 a vista attenzione accendo destro subito destra 3 meno meno destra 3 meno meno 80 a vista alpino sinistra 5 meno stai interno sinistra 5 50 sinistra 4 al cartellino sinistra 4 in destra 5 attenzione diventa 4 destra 5 attenzione diventa 4 80 al cartellino attenzione sinistra 3 ritarda 50 attenzione destra 2 chiude 50 destra 3 in destra 5 corta subito sinistra 3 subito sinistra 3 50 50 attenzione sinistra 3 in destra 4 meno subito sinistra 5 subito sinistra 5 in destra sinistra 4 50 attenzione sinistra 4 diventa 3 al cartellino subito destra 3 meno meno attenzione attenzione sinistra 4 sinistra 4 corta in destra 3 lunga in sinistra 5 lunga attenzione al cartellino accendo sinistro in accendo destro e subito sinistra tornante accendo sinistra non accendo destro subito sinistra tornante 100 ai 3 pini destra 3 chiude ritarda 50 sinistra 5 50 alpino attenzione sinistra destra 3 50 alpino assorto attenzione sinistra 4 chiude 3 50 destra 3 meno meno subito accendo sinistro in destra 5 attenzione ai 2 pini sinistra 4 corta in destra 3 30 destra 3 30 destra 3 meno meno in sinistra 5 subito accendo destro in sinistra 4 50 alpino accendo accendo in sinistra 4 diventa 3 più ritarda 30 molta attenzione sinistra 3 meno meno in destra 5 al cartellino sinistra sinistra e subito destra sinistra 4 meno subito destra 3 30 attenzione accendo sinistra sinistra 3 in accendo destro subito molta attenzione accendo sinistro in destra 3 meno meno 50 al rail sinistra 3 meno meno ritarda in destra 3 80 molta molta attenzione sinistra 4 corta subito destra 3 meno meno diventa 2 sinistra destra 4 sinistra destra 5 50 destra sinistra 4 molta molta attenzione sinistra 3 meno meno lunga 50 a vista molta attenzione al rail accendo sinistro in destra 3 subito attenzione sinistra 4 corta in destra 3 meno meno sinistra 4 50 attenzione sinistra destra 3 subito accenno sinistro in destra 3 meno meno 30 attenzione sinistra 5 corta in sinistra destra 3 30 volta attenzione sinistra 5 corta subito ai cartelli sinistra 3 meno meno e subito sinistra destra 1 stretto stretto non tagliare sinistra destra 1 stretto stretto non tagliare sinistra 5 80 volta attenzione al cancello sinistra 4 corta diventa 3 150 dopo il cartello attenzione destra 5 subito destra 4 meno 150 non vede volta attenzione alla casa destra 2 tonda in sinistra 5 100 attenzione sinistra 4 doppia subito sinistra 3 4 doppia subito sinistra 3 in destra 5 doppia molta attenzione ai tre pini sinistra 3 larga destra sinistra 5 in destra 5 doppia subito sinistra destra sinistra 4 molta molta attenzione al cartello destra 3 in sinistra 5 subito destra 1 in versione stretta sinistra 5 subito destra 1 in versione stretta 50 destra sinistra 5 150 destra sinistra 5 attenzione subito sinistra destra 4 meno meno e subito accenno destro in sinistra 3 150 accenno destro in sinistra 3 150 dopo i cartelli destra destra attenzione accenno destro in sinistra tornante sinistra tornante sinistra destra 4 forte attenzione subito sinistra 3 ritarda ritardo in destra tornante stretto destra tornante stretto destra 5 lunga attenzione destra 4 corta in sinistra tornante destra tornante destra 5 corta in sinistra 4 attenzione subito accenno sinistro in destra tornante stretto 80 destra tornante stretto 80 destra 5 50 attenzione destra 5 sconnesso subito sinistra 2 sul ponte ritarda sinistra 2 50 destra 5 80 attenzione accenno destro in sinistra destra 3 subito sinistra 4 meno meno subito destra 3 tonda in sinistra 5 100 attenzione a rail sinistra 3 meno meno e subito destra 1 scusa a rail sinistra 3 meno e subito destra 1 stretto ah giù eh si scusa sinistra 3 meno e subito destra 1 stretto sinistra tornante in destra tornante lungo 50 sinistra sinistra tornante in destra tornante 30 destra tornante 30 sinistra 4 in destra 5 tieni sinistra 5 sale 80 al muro sinistra tornante destra 5 lunga attenzione al muro dosso in destra 4 subito destra 4 porta in sinistra 3 ritarda sinistra 3 ritarda destra sinistra 3 80 a vista molta molta attenzione destra 3 meno meno non vede sporca in sinistra 5 attenzione subito sinistra 3 meno meno diventa 5 in destra 5 al cancello attenzione destra 5 porta ritarda subito sinistra 3 meno meno in destra 5 in sinistra 5 non vede attenzione al colonnino accendo destro in sinistra 3 lunga subito destra 5 lunga al cambio asfalto sinistra 5 non vede subito destra 5 non vede 50 attenzione destra sinistra 4 subito destra 4 meno al palo destra 4 meno e subito destra 3 scende al palo destra 4 meno e subito destra 3 scende 80 sconnesso stai al centro buche a fine muro molta molta attenzione sinistra tornante stretto 80 attenzione accendo destro in sinistra 3 subito destra 5 80 non vede attenzione destra 4 porta subito destra 4 in sinistra 3 ritarda doppia 50 alla rete destra 3 in sinistra 5 salta 80 sforzo in frenata attenzione sinistra 3 in destra 5 subito sinistra 4 non vede 150 stop madonna santa la nebbia agli irti colli oh che cazzo la siamo calata lo stesso guarda che il tempo torni non lo so perché non lo so mia si la stoppata un secondo prima e spingere la telecamera si grazie 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 Grazie.